Va bene la social card, in fondo che sarà mai? L'annunciamo oggi, parte a settembre, però l'importante è che si faccia. Sbaglio? Meglio che un cazzotti in un occhio, naturalmente non è una soluzione strutturale ed è un pannicello caldo rispetto alle difficoltà delle famiglie italiane che bisogna risolvere con un ammortizzatore universale come ce l'hanno tutti i paesi d'Europa, noi ce lo avevamo, si chiamava reddito di cittadinanza, forse non funzionava bene e c'erano un po' di truffatori, come devo dire ci sono in molti settori della vita italiana, ci sono tra chi non paga l'IVA, chi non paga le ritenute da conto, chi si comporta male con la pubblica amministrazione, ci sono molte categorie che non fanno esattamente quello che la legge prescrive, ma non è che questo cancella gli appalti pubblici o cancella la sanità pubblica o cancella la possibilità di portare in detrazione i costi dal punto di vista fiscale, insomma qui di fronte ad una serie di problematiche è stato cancellato l'ammortizzatore universale che peraltro l'Unione Europea pretende che noi abbiamo appena un'infrazione, quindi bisogna dimostrare di avere questo genere di misura che serve a cambiare lavoro sostanzialmente, quando un sistore industriale ha un'evoluzione tecnica o tecnologica per il quale purtroppo è inevitabile un licenziamento, la gente non può andare per strada e deve essere gestita anche quando in aziende piccole dove non si applicano gli ammortizzatori specifici. E lei dice a fronte di quello noi vediamo il pannicello caldo, come ad esempio la social card. Ebbè gli mandano la tessera del pane, che è una cosa tristissima dal punto di vista dell'immagine. Senta, la Presidente.